Il tuo priorità è di aiutare la A-DAR, quindi sulla parte della lefta perché qui c'è parte del microfono attivato Ciao ragazzi Ciao Gabby è straniero Si, possiamo parlare in inglese Il fetto ci sei? Si Ok, devo mutare un secondo Discord Eh, la porco di io Eh, eh Allora, il bug di Wolf è perché ci sta nel giorno di Yoda Quindi si vede nel gruppo 9 in realtà Quindi probabilmente che butta fuori Ned e rimettilo dentro nel gruppo altro Provo Sto entrando? Ok, questo è come spieghi il quarto Ok? Allora, l'anchor è come questo Don't forget buff, ragazzi Ok, ragazzi Mute Discord un secondo Abbiamo un minuto È un po' molto semplice E' un po' molto semplice Penso Ma proviamo a concentrare E poi giocare Allora No No, il tuo nome è Ned Be' sbagliato Nett è meglio Perché il VC ti ricorda di ricordare il bathroom? C'era il bathroom Esatto sono un po' tardi prendere le potioni, guardare le cose buon lucro ragazzi giochiamo a l'altra parte buon lucro guardate la rotazione non sono 38 guardiamo il bonfire mentre prendono il punto stoppiamo la rotazione ok non puoi restiamo al bonfire ah ho arrangato per fare le orne far più le fallo arrangato le orne ho detto bonfire o ho detto fallo no no non ci sono ok bisogna andare per B bisogna restare ok ok oh il microfono ok 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 adesso ora abbiamo un gruppo di gioco perciò guardare 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 ok ora vai 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 pushate qua gira in tondo guarda gravidi anche io successivo continuate a girare verso destra mentre infettate sono qui 3 secondi 3 secondi 2 secondi si provano qui Dove vai? Dove sei? Sono qua, dietro a te Sto combattendo davanti a te Ok, questo... ok Ok, ora, ho bisogno di tutti a guardare il punto Prendete a guardare il punto Non abbiamo bisogno di giocare così Ok, provi a guardare il punto Questa parte? Sì, grazie, andiamo a mid Segreti, segreti, segreti Ragazzi, la linea è molto pesante Sì, la linea, girate, girate Backline Prendendo... Just follow, follow, follow Ok, vado sul punto anche io Ok, seguite le quali e torno Avete un sacco di gente nella backline, ragazzi Sì, sì, sta spaccando In mezzo Ok, go out, ok Ci sono... Sono per l'ultimo ripognere In fronte di B Ok, ora, rotalo ad A In tutto modo di rotare ad B non sto spettando, sto solo per la righte ok, rotando vengo con speed carlosan vengo con carlosan ok, stiamo rotando dovremmo giocare la loro backline ok stai back ok arrivo con la gravità vi faccio un doppio gravi ok pensi che siamo in 5 secondi questo è dominante sì potresti giocare qui? oh no vengo a puntata come vieni a puntata ora vieni a puntata ok pertanto xd sto a puntata ora sto a puntata stiamo spettando la puntata perchè sono morti ora tutti che giocano vicino al porto provate a venire ok venite a venire al punto non giocavi a farlo provate a bloccare loro non ti vedo più qua 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 stanno rispingendo sul punto i tanti ragazzi stanno spingendo sul punto guardate punto, point, point sono a punto, come è a punto io ando in per il porcino ti esplorgo no ho sbagliato no, non lo so fu un po' fuori io ando ok, tutti stanno morta ok vanno alla porta siamo molto amico abbiamo molti assassini abbiamo un po' di armonia è preso noi abbiamo l'altra porta noi siamo dietro dobbiamo andare alla porta dobbiamo andare alla porta solo noi lo senti che sta di e noi siamo due non tre viarciù ma dobbiamo tre da noi siamo due noi siamo dietro dietro a destra o dietro a sinistra dietro la porta a destra vabbè facciamo la rotation ha detto di non andare a destra perfetto perfetto vabbè fissiamo che non c'è nessuno andiamo a aiutare la porta B follow it faccio un gravity qua in mezzo pat successivo gravity usate 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 ok ok sono controllo non ci sono guardate qua guardate qua guardate qua guardate qua esplodo ok non ok 2 1 ok 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 i'm on point ciao ok ok best color on Bari fuck you man I'm so fucking bad con il Liga scusate per il troll Wolf una muirretta assurdo comunque complimenti collate troppo porco di dio era un casino allucinante no ma per me quando senti bombata la voce di Wolf allora l'ho bassato guys I will tell us something sorry my hill is very bad because first war and I think it's have a lot of assassins yeah I saw a lot of assassins parties they killed like a bunch of our killers but the rest it's because we left them we left them like when we went to take